Con Massimo Russo della Drums With On Brand di Vibo, lunedì protagonista alla presentazione del calendario Associazione Persona Down a Vibo, insieme anche al tuo amico Enzo Mirabello. Partiamo da lì. Che sensazioni hai provato e poi parliamo anche di te e della tua scuola. Guarda, le sensazioni provate al concerto per questa cosa di beneficenza meravigliosa sono state quelle di aver fatto qualcosa di molto utile. Perché quando si suona in genere lo fai sempre perché c'è sempre questa carriera. Invece quella è stata un'ambientazione bellissima. È stato tutto molto molto bello e caldo, quindi poi anche il pubblico ha reagito bene e vedere i ragazzi contenti del calendario, poi anche i ragazzi da Tonno Callipo che hanno fatto un sacco di complimenti. Insomma, siamo riusciti con la musica a fare quello per la quale la musica è nata. Riunire un po' tutti quanti. Massimo, tu insieme a Enzo, alla Foto Moderna Grillo, ad Armando, a Vincenzo, a Franco rappresentate insieme anche alla Volla di Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia e a tante altre realtà di Vibo emergenti e non, come dire, delle eccellenze. In un territorio dove spesso si parla di criminalità e di altre cose non proprio positive, sicuramente è qualcosa che vi fa onore. Perché a Vibo e cosa ti spinge a fare impresa? Perché alla fine fai impresa con la musica qua nella tua città natale. Questa è una bellissima domanda che pochi mi hanno fatto, ti dico la verità, e sono molto felice di risponderti. Il perché si sta a Vibo è molto semplice. Quando ero più piccolino ho cominciato a studiare e poi ho fatto le prime avventure, tra virgolette, nella mia carriera. Mi è sempre stato detto che, secondo questi amici che frequentavo, mi è sempre stato detto che dovevo andare fuori, perché fuori che si lavora meglio, fuori che funziona, qua il territorio non è bello, Vibo non funziona. Questa cosa, io vi dico la verità, non l'ho accettata, anche perché sono stato ispirato, questo lo devo dire, dal mio maestro che è Vittorino Naso, che è riuscito lui per primo a portare a Vibo tutto quello che è, voglio dire, la professionalità del mondo della percussione. Quindi lui lavorando in giro per il mondo, però rientrava sempre a Vibo. Questo mi ha ispirato. Ad un certo punto ho fatto lo stesso. Ho preferito stare a Vibo per creare un ambiente, diciamo, un po', come si può dire, è come se io andavo all'estero, vado tuttora all'estero, andavo fuori, prendevo degli spunti, tornavo a casa e mettevo quello che avevo imparato fuori, delle altre culture, sia, diciamo, al di là della Calabria sia al di là dell'Italia, le portavo nella mia città per rendere un pochino questo territorio, tra virgolette, migliore nel mio piccolo, perché il paragone che faccio che mi piace è un po' come se qualcuno va in una casa che ha appena comprato, che è una casa, diciamo, non disastrata, per esempio, non ha la compra, e pretende di avere la casa già sistemata, senza fare nulla per renderla migliore. Quindi Vibo, io la vedo così, è una casa bella, della quale abito, dove però se io mi lamento, va bene, di questa casa disordinata, però, diciamo, poi cado in un controsenso se non faccio nulla per ordinare. Quindi siccome tutti quanti si sistemano nella propria casa, allora ho detto, va bene, vado fuori, cerco di capire come funzionano le cose, torno qua e cerco di creare nel mio piccolo un qualcosa di carino, per me stesso e poi per tutti gli altri. Grazie Massimo, a braccia aperte vi aspettiamo, se volete, al Palla Valencia per gustare uno spettacolo non musicale ma pallavolistico. Ci saremo sicuramente, ci sosteniamo tutti a vicenda. Grazie.